Buon poveriggio dall'Ippodomo delle Capannelle, premio a Ronne Piperno, apre la giornata. Una prova per femmine di tre anni, non vincitrici, 4.000 euro in carriera, schieramento che vede all'uno Fantasy Acaf, Lucio Becchetti al due, Flavia Star, Giorgio Alessandro Junior, tre, Fiabba delle Badie, Antonio Di Nardo al quattro, Feita, Enrico Bellè al 5, Fairy Tail, Tc, Mario Manzone al 6, Fanny Don Laxmi, Roberto Vecchione al 7, Felicia Dorial, Giuseppe Capasso all'8, Fedora DL, Giuseppe Lombardo Junior. Lo stacco della macchina che lascia in lotta all'interno Fiabba delle Badie, l'errore per Flavia Star, all'esterno c'è Fanny Don Laxmi, poi ancora anche un altro errore, rimane in seconda posizione alla corda Fantasy Acaf, gli altri più indietro capeggiate da Fate. Così dopo la piegata con Fanny Don che va all'attacco della battistata Fiabba delle Badie 28,8 per il passaggio ai 400 metri con Fanny Don Laxmi che spende un po', ma alla fine sopravanza Fiabba delle Badie e i 600 se ne vanno nell'ordine del 44,2. Terza posizione per Fantasy Acaf, quindi più indietro Faith, a precedere il numero 7 di Felicia Dorial, metà gara in 59,4 con posizioni che per ora non mutano, cerca di accorciare Faith sul rallentamento di quelli davanti mentre continua a condurre Fanny Don Laxmi che arriva al chilometro nell'ordine dell'1,14,3. Così agli ultimi 500 di gara con Fanny Doll sempre pedinata da Fiabba delle Badie, quindi Fantasy Acaf, poi Faith, quindi ancora Felicia Dorial, queste a giocarsi la corsa con Fantasy Acaf che va in anticipo su Faith, cerca di andare all'esterno di Fiabba delle Badie, davanti c'è sempre il conduzione di Fanny Don Laxmi con Fantasy Acaf che cerca di andare a fare lo spunto, ma si riprende Fiabba delle Badie che a sua volta va su Fanny Doll che cerca la difesa, ultimi metri, Fanny Doll, Fiabba delle Badie, Fanny Doll che viene a vincere nei confronti di Fiabba delle Badie, Fantasy Acaf. 45,4 a chiudere, 1,59,7 il tempo totale, siamo nell'ordine dell'1,14,4 come media al chilometro per Fanny Doll, Laxmi e Roberto Vecchione con il training di Olga Relert e i colori della scuderia Sefin, conquistato il comando delle operazioni dopo 500 metri, il figlio di Masson Massive Olaz è riuscita poi a tenere botta nel finale al ritorno di Fiabba delle Badie, mezza lunghezza tra le due, poi a leggera distanza Fantasy Acaf a completare il podio. 6-3-1 l'ordine di arrivo per questa prima da Capannella. Grazie. 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 Grazie.